Musica In questa edizione del Lady News omesso versamento di imposto per 2 milioni di euro Sequestrati dalla Guardia di Finanza di Catania, bene all'imprenditore Giuseppe D'Agostino, rappresentante legale della DAC-SPA La riforma delle province dei liberi consorzi non piace a Roma Crocetta, costretto a fare un passo indietro e a riportare la legge in aula per ritiscutere alcuni punti Convenio all'ospedale Cannizzaro su medicina protetta e la rete dei progetti Catania aderisce all'iniziativa Puliamo il Bonno Il più importante appuntamento mondiale di volontariato ambientale organizzato in Italia da Lega Ambiente Nella nostra città, alunni di diverse scuole hanno ripulito Piazza Università Dopo un'estate ricca di eventi e di cultura, tra cui il premio Asciuti Domani si svolgerà a Zafferana e Tennea il premio Brancati Sicilia, dietro i numeri del disastro, ci sono le responsabilità della regione Cambiare le cose è possibile Anche con l'accordo quadro fra quotidiano di Sicilia e classe dirigente siciliana Il QDS dà voce a professionisti, imprenditori, sindacati, volontariato per promuovere l'occupazione e lo sviluppo Insieme, per Risorgimento Sicilia Sostieni la campagna etica Abbonati Dal 19 luglio, volare nel bello è di Norma Territorio, cibo e cultura, il luogo d'arrivo Norma, that's Sicilia L'Officina delle Eccellenze Aeroporto Fontana Rossa Catania Ex Terminal Arrivi Format, rendiamo concrete le vostre idee Stampa digitale, allestimenti, insegne, cartotecnica, lavorazioni a frese e laser Progettazione e realizzazione in plexiglass La stampa che prende forma Entra da Mondo Ragazzi e troverai tante idee per rendere felice il tuo bambino Mondo Ragazzi è il mondo dei piccoli Abbigliamento e calzature da 0 a 16 anni con i marchi più prestigiosi Da Mondo Ragazzi corsi preparto gratuiti, parcheggio riservato, angolo fasciatoio e stanze dei giochi Mondo Ragazzi, amici d'infanzia A Catania in via Pola 19, ad Agrigento in via Tenea 22, a Sciacca in via Licata 95 e a Giarra in Corsi Italia 168 Un decreto di sequestro preventivo di beni per quasi 2 milioni di euro è stato eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania Nei confronti è l'imprenditore Giuseppe D'Agostino, rappresentante legale della DACA S.P.A. Società Etnè attiva nel commercio l'ingrosso di piatti, bicchieri e altre soviglie in plastica Il provvedimento cautelare è stato emesso dal GIP del Tribunale di Catania su richiesta alla locale Procura della Repubblica a seguito di una segnalazione effettuata all'Agenzia delle Entrate di Catania per l'omesso versamento IVA relativa al 2013 Infatti anche grazie all'accordo di collaborazione stipulato lo scorso marzo tra la Procura della Repubblica Etnèa la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate per la Sicilia e la Guardia di Finanza di Catania la competente autorità giudiziaria ha delegato il locale nucleo di polizia tributaria allo svolgimento delle indagini patrimoniali finalizzate all'aggressione dei beni intestati a responsabili di reati tributari da porra garanzia del credito erariale I finanzieri hanno così individuato i beni immobili e la disponibilità dell'indagato si tratta di due ville, un terreno a Zafferano e Etnèa, nonché di due appartamenti ad Ascireale Sono stati anche rintracciati rapporti finanziari con non saldi attivi per oltre 80.000 euro quote di quattro società e due autovetture intestate al D'Agostino Tutti questi beni, il cui valore di stima si aggira intorno a 1,8 milioni di euro sono stati sottoposti a sequestro preventivo in esecuzione di questo provvedimento L'intervento eseguito conferma l'impegno dell'autorità giudiziaria Etnèa della Guardia di Finanza e dell'Agenzia dell'Entrata ad assicurare un effettivo recupero delle risorse indebitamente sottratte al fisco ma anche ad arginare la diffusione e l'illegalità del sistema economico per offrire tutela alle imprese e ai professionisti che operano nel rispetto delle regole e le cui prospettive di sviluppo sul mercato sono poste seriamente a rischio dalla concorrenza sediale di chi opera illecitamente La Guardia di Finanza di Siracusa nell'ambito del procedimento relativo all'accertamento delle responsabilità sul fallimento della SAI-8, società di gestione del servizio idrico per la provincia retusea, ha appurato che la società per l'anno di imposto 2012 ha omesso il versamento e le ritenute operate nei confronti dei lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi per un importo complessivo pari a 1.423.000 euro In quel contesto è stato deferito all'autorità giudiziaria l'amministratore protempere per la violazione della normativa tributaria di rilevanza penale che al superamento della soglia di 50.000 euro punisce il comportamento del sostituto di imposta che non versa nei termini previsti le risultanti ritenute dalla certificazione rilasciata ai dipendenti Le indagini di polizia giudiziaria hanno consentito al procuratore capo della Repubblica di Siracusa il dottore Francesco Paolo Giordano che ha coordinato le indagini di richiedere al GIP il decreto di sequestro preventivo anche nella forma per equivalente sui conti e sui beni dell'indagato concesso all'autorità giudiziaria ed eseguito nell'anno 2014 La compagnia di Siracusa ha ottenuto alla Procura della Repubblica il nulla ossa l'utilizzo per fini fiscali dei dati emersi nell'ambito delle attività delegate di polizia giudiziaria e a conclusione delle proprie attività ispettive ha constatato l'omesso versamento di ritenute certificate IRPEF operate e non versate nell'anno di imposto 2012 pari appunto a oltre 1.400.000 euro la Guardia di Finanza con questa attività acclara il suo ruolo di polizia economico-finanziario con una metodologia trasversale dell'esecuzione di indagini di polizia giudiziaria E' stato arrestato l'uomo che si fingeva un mosso malavitoso per rapinare a Catania gli studenti universitari fuori sede Francesco Franceschini, 44 anni, è considerato l'autore di due rapine avvenute il novembre 2014 e nei suoi confronti è stata emessa una nuova ordinanza di custodia cautelare L'indagine è stata avviata alla polizia dopo che tre giovani avevano denunciato di essere stati rapinati da un uomo che, per commettere la rapina, aveva usato una particolare modalità Gli studenti fuori sede, dopo aver effettuato gli acquisti in un centro commerciale erano stati avvicinati da un uomo che, pur se apparentemente disarmato era riuscito a intimidire e spaventare gli studenti asserendo di essere un mosso malavitoso e di avere al proprio seguito una banda di malviventi pronti a intervenire con suo segnale I impauriti hanno effettuato prelievi di denaro in banca consegnando i 180 e 200 euro a testa Il 6 maggio scorso un altro colpo ai danni di altri tre studenti universitari Sulla base le descrizioni fornite la polizia è risalita alla Franceschini Nuova bocciatura per Rosario Crocetta Questa volta ad essere messa sul banco degli imputati è la legge sulle ex province legge per la quale Crocetta aveva fatto le baricate e che aveva difeso fino a che aveva potuto Ora però questa legge dovrà tornare in aula ed essere modificata a dire lo stesso presidente della regione soprattutto per la parte che riguarda il voto ponderato Su questo non ci sono margini oppure si rischia lo scontro con Roma Così come è stata approvata da Sala d'Ercole Infatti per l'elezione del presidente libero consorzio del sindaco metropolitano la preferenza espressa all'amministratore del capoluogo vale come quella del collega di un lontano comune del comprensorio In questo modo il sindaco di Biancavilla, giusto per fare un esempio potrebbe avere lo stesso valore del sindaco di Catania Secondo Palazzo Chigi questa norma non tiene conto il criterio della rappresentanza Dunque Crocetta ha dovuto ancora una volta fare un passo indietro Ed infatti è proprio Roma a dettare la linea spiegando che il sindaco dell'area metropolitana deve coincidere con il sindaco del capoluogo e non essere scelto fra tutti quelli della provincia A questo punto saranno certamente congelate per il momento le elezioni di secondo grado per i sei liberi consorsi e le tre aree metropolitane già indette da Palazzo d'Orleans per il prossimo 29 novembre A due anni dall'apertura del reparto di medicina protetta dedicato alla cura dei detenuti a riconoscimento e il ruolo da esso svolto l'ospedale Cannizzaro di Catania ha ospitato il convegno delle unità operative di medicina protetta in Italia la rete dei progetti che è partito oggi e che si proterà fino alla giornata di domani Organizzato dalla Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria con il patrocino del Ministero della Giustizia e l'appartenariato con l'Istituto Superiore di Studi Penitenziari l'evento scientifico di carattere nazionale rappresenta una finestra su tutte le unità operative di medicina protetta oggi presenti in Italia che rappresentano un sistema di attività di valore che ha come obiettivo il benessere del paziente detenuto infatti la relazione tra professionalità appartenenti a culture organizzative diverse deve essere curata nei minimi aspetti affinché la salute del detenuto possa essere garantita il reparto di medicina protetta e quindi il paradigma operativo è il concetto di connected health cioè sanità connessa, una sanità che pone al centro il paziente come individuo e non solo come sorgente di un non bisogno sanitario il convegno di oggi mette in evidenza come quando c'è sinergia tra professionalità diverse funziona bene la medicina e funziona anche la medicina protetta che è un settore delicato sicuramente all'interno dei nosocomi ci riferiamo a quella medicina che cura i detenuti l'ospedale Cannizzaro tra l'altro è stato all'avanguardia da questo punto di vista diciamo che questa è la conclusione di un percorso iniziato alcuni anni addietro con l'inaugurazione di una struttura di 12 posti letto dedicata proprio ai detenuti pazienti con problemi di salute il lavoro che in questi anni è stato importante abbiamo risolto parecchi problemi e devo dire con soddisfazione e del paziente e anche dell'amministrazione pitensiaria ci abbiamo garantito la salute nella sicurezza Mi siete avvalsi anche di esperti di vari settori per un quadro completo perché non si parla solo di una medicina fino a se stessa ma c'è anche l'aspetto psicologico che non va sottovalutato ma evidentemente il paziente ricoverato non è detenuto ma è ricoverato e viene trattato alla stregua di tutti gli altri pazienti ricoverati quindi suffruisce di tutti i servizi e di tutte le consulenze che ci sono nel nostro ospedale Previsti nuovi progetti? Manteniamo quello che c'è poi avremo un organico ad hoc per questa struttura e andiamo avanti così cercando di migliorare ulteriormente il rapporto anche con l'amministrazione penitenziaria che è già ottimo Catania aderisce all'iniziativa Puliamo il mondo promossa in tutta Italia da Lega Ambiente e tanti giovani che questa mattina sono venuti in Piazza Università per pulirla ma soprattutto per capire meglio come funziona la raccolta differenziata e per divulgarla a coloro che ancora sono resti ad applicare questa formula di raccolta Sì, è un grande messaggio che si vuole dare a tutti i cittadini ma soprattutto ai nostri giovani a coloro i quali saranno effettivamente maturi cittadini fra qualche anno Noi come amministrazione comunale abbiamo aderito con entusiasmo a questa iniziativa che si svolge in diverse parti del mondo e sulla base di questo abbiamo realizzato questa iniziativa proprio a Piazza Università abbiamo comunicato alle varie scuole di poter partecipare stiamo dando delle pettorine, dei cappellini ai ragazzi per fare in modo che i ragazzi fin dalla loro piccola età possono avere consapevolezza dell'importanza del rispetto dell'ambiente e quindi della raccolta dei rifiuti e soprattutto di farlo in maniera oculata, seria con la cosiddetta raccolta differenziata Questo è un grande messaggio che in questa giornata vogliamo dare ai cittadini ed è in sintonia con le iniziative che l'amministrazione intende portare avanti fra qualche settimana per la realizzazione della raccolta differenziata nel territorio gestito direttamente dal Comune di Catania Credo che sia un'iniziativa che fa pandan con questo nostro programma e soprattutto a noi interessa che tutta la cittadinanza, a cominciare dai rappresentanti più giovani e più piccoli possa acquisire sempre maggiore consapevolezza di questa grande importanza che riscopre con il rispetto massimo dell'ambiente Quanto possono essere utili i bambini in questo progetto del Comune nella differenziata porta a porta? Io credo che sia importante che in tutti si acquisisca questa consapevolezza e che tramite i ragazzi si trasmetta alle loro famiglie il fatto che il Comune sta investendo in risorse umane in risorse economiche su una iniziativa quella della differenziata porta a porta che ha bisogno necessariamente della collaborazione di tutti Se non si riesce a veicolare questo messaggio a tutti i cittadini e soprattutto alle famiglie certamente avremo dei problemi Noi siamo molto fiduciosi che tramite queste iniziative, tramite l'impegno di tutti compresa anche la stampa possiamo riuscire nel nostro intento Archimede ha proposto questa mattina questo confronto per cercare di aiutare i ragazzi che ovviamente hanno sempre davanti a loro un futuro incerto soprattutto in un momento delicato come questo Allora incontri del genere a cosa possono servire? Intanto abbiamo avuto l'opportunità di mettere insieme più scuole L'Archimede si è fatta promotrice insieme alla Cisco di questo evento finalizzato ad allargare queste opportunità al territorio e alla comunità locale questo è l'obiettivo fondamentale fare rete tra le scuole e spiegare ai ragazzi quali sono i lavori ormai difficili da trovare perché nel mercato non esistono professionalità Cisco rappresenta questa opportunità un nuovo spazio nel mercato che ormai è orientato alla connettività alla domotica, alle telecomunicazioni e attraverso questi corsi che possono iniziare anche ragionando sulla curvatura del curricolo nei piani di studi arrivare attraverso le esperienze laboratoriali a delle attività di eccellenza perché i corsi Cisco chiedono anche un alto livello di competenza e di professionalità costituisce davvero per il nostro territorio un'opportunità che non è il caso di perdere ma al contrario va coltivata unitamente a tutte le scuole io mi auguro che si possa fare rete tutti insieme perché Catania possa diventare un centro di propulsione per il futuro e mi auguro anche che questi ragazzi che noi ci impegniamo a formare possano rimanere in Italia e non andare fuori come purtroppo in questo momento sta accadendo Come si può ricercare se stessi nel futuro e soprattutto quali consigli che dobbiamo dare a questi uomini del domani? L'opportunità che abbiamo è sicuramente il digitale, le competenze digitali per chi vuole investire sul proprio futuro e ha la passione per la tecnologia c'è la possibilità di studiare, impegnarsi, acquisire quelle competenze digitali di base specialistiche che fanno veramente la differenza sul mercato del lavoro Noi abbiamo come Cisco un programma di formazione a livello mondiale che si chiama Cisco Networking Academy e permette a cominciare a partire dalla scuola per poi proseguire all'università nella formazione professionale continua di acquisire quelle competenze specialistiche e tecniche che le aziende richiedono ogni giorno e fanno veramente fatica a trovare quindi abbiamo tanti nostri allievi, ex allievi che si sono diplomati e che oggi lavorano in tante aziende e questo è l'orgoglio più grosso che abbiamo come azienda di veramente contribuire, aiutare l'istruzione, in questo caso il nostro paese in Italia a formare gli esperti di oggi e di domani Ci troviamo a Zafferane Etnea, siamo in provincia di Catania e con noi la primo cittadino di questo ridente comune il dottor Alfio Russo che praticamente ci fa un po' un riepilogo di quello che è stato questo settembre culturale avete avuto dei premi internazionali come quello che ci sarà sabato, domani il premio Brancati ma nel frattempo c'è stato già il premio internazionale Giuseppe Sciuti, com'è andato? Possiamo già tracciare un bilancio? Sì, sono due premi culturali che hanno una valenza internazionale sono due premi che l'amministrazione ha fortemente voluto uno è già il premio Brancati, è la 46e medizione quindi c'è una sua storicità e quindi c'è un patrimonio culturale della nostra comunità il premio Sciuti l'abbiamo lanciato l'anno scorso e non ho visto altri uguali in Italia non è un premio di estemporaneo è un premio proprio dedicato al nostro pittore che ha dipinto in tutto il mondo dando un'immagine della Sicilia altamente spettacolare da un modista culturale quindi l'abbiamo avuto fortemente e i primi vincitori del premio Sciuti sono stati due grandissimi pittori di fama internazionale il pittore Camille Cauchi, maltese che se andate a Malta ha fatto tutto lui quest'anno ha vinto un pittore russo di scuola italiana Oleg Super Ego che ha dipinto 350 metri quadrati della cattedrale di Noto un affresco bellissimo quindi il settembre dedicato alla cultura Zafferano mai è diventato proprio un format ben preciso dopo Ettenescena che sono 60 serate di attesa spettacolistica all'anfiteato continuiamo con la cultura fatto a livello qualitativo molto alto quindi alzando l'offerta qualitativa della cultura si riesce ad ampliare anche il turismo si riesce ad ampliare anche il valore aggiunto che una comunità usufruisce Sabato o domani questo premio letterario Brancati c'è una novità che riguarda il nuovo regolamento? Sì abbiamo un po' fatto un restyling sul regolamento per coinvolgere di più i gruppi di lettura quindi chi li ha detti al settore senza centralizzare un po' la giuria proprio per evitare qualsiasi tipo di interferenza noi anche dal ministro politico ragioniamo con la meritocrazia quindi siamo svingutati a qualsiasi pressione che potrebbe darci il mondo esterno abbiamo voluto questo restyling forte perché i gruppi di lettura scelgono le opere che meritano quindi non c'è alcuna interferenza c'è un buddeggio quindi è quasi matematico il discorso un po' esautorandoci e bypassando i premi tradizionali il premio strega e altri premi di quello del Brancati dove c'è forse qualche interferenza o qualche interesse economico maggiore Zafferano è avulsa noi siamo autarchici è un premio nostro non abbiamo chiesto contributi perché non ce ne danno completamente e usciamo i soldi dalla nostra comunità quindi sono investimento culturale che fa la mia comunità e la mia comunità vuole essere scevra da qualsiasi tipo di interferenza esterna che non sia la meritocrazia Grazie a tutti